Ciao, prima di cominciare con i video-propers volevo solo dirvi che finalmente io e mio marito ci siamo sposati sabato 26 giugno, qui c'è la fede, e giovedì uscirà un video in cui vi racconterò un po' tutto, vi farò vedere il vestito eccetera, massite curiosi, curiosi di andare a sbirciare video, foto, curiosità eccetera, vi aspetto su Instagram e mi trovate come chiara.smr, vi mando un bacione e buone risate. una cosa più comoda sono a me che sclera poi è difficilissimo aspetta, ok, così obbiettivamente aspetta si aspetta dai, lei mi ha scritto che ho fatto un mezzo rutto nel video, ma cosa dice? minuto 16 e 15 si aspetta no ah tranquilla ogni volta però non credo si 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 stai fredda ma stai fredda sono schifo potremmo carino scato sono schifo non mi fredda ma Dammi, sei bella, mi fa piacere, ma te ne devi andare Amore, sì, sei la sirenetta Sei la sirenetta Amore C'è il cane No Tre, tre penso E rifaccio scena a fiume Sì, è partito Basta, basta, molto naturale, complimenti Vedi come mi hai venuto Mamma, c'è il mio Poi Un'altra, vieni qui Quello che mi segui perché Tanto la persona mi sta seguendo, quindi è presente così Quindi cammina No, però mi devi seguire dall'altra parte Sì, ma io mi bagno i piedi Altezza uomo, come stessi proprio seguendo Ok Sì Ti riprendo la schiena io E devo riprenderti i piedi Allora ti seguo da più lontano No, però sì, sì Ok Ok Ok, via a rifare lo sai Perché? Perché non ci sono scambiato il microfono Sto ancora riprendendo, giusto? Sì, sì Guarda Sì, sì Secondo me è venuto bene però Con un stabilizzatore veniva molto meglio Ma deve essere No, no, no Non me lo fare Non me lo fare Ti odio Ma perché? Ti ho caricato completamente Non capisco Non è certo Scarica Porca Ma l'hai fottuto Povera me Povera me Non ancora Chiaro Non ancora Ma proprio Deve essere una scena di tre secondi Quindi sempre che se ne sta lì Devo correre io Eh sì Mi devi seguire Ma proprio Questa è una scena di tre secondi Grazie.